TG Padova, ben ritrovati, l'informazione in diretta di Rete Veneta, è il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, la cronaca non solo la politica, lo sport, il costume, allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi sette giorni. Sembrava che l'incubo spaccati a Padova fosse passato, invece nonostante gli arresti il colpo in un ristorante di Via Verdi ha innalzato nuovamente l'allarme al termine di un'estate che passerà alle cronache per l'assalto a negozi ed esercizi commerciali soprattutto del centro storico. In città è aperto una sorta di tavolo di crisi con il comune, le forze dell'ordine nelle associazioni di categoria, c'è chi come Confesercenti ha lanciato l'idea di dividere la città in micro distretti di sicurezza o l'app che ha proposto l'utilizzo di allarmi fumogeni. Adesso noi abbiamo chiesto loro di fare sintesi e poi di individuare con dei tecnici, perché chiaramente questa è una questione che necessita di competenze tecniche, qual è la soluzione migliore e noi siamo pronti a sostenerla. Noi abbiamo voluto proprio fare un'alleanza con i commercianti, con le associazioni di categorie per difendere Padova da questi malintenzionati. In attesa di una soluzione condivisa c'è anche chi come l'Associazione Commercianti del Centro ha inaugurato le cosiddette passeggiate di solidarietà rigorosamente notturne, armati di torcia e telefonino. La presenza di persone sono comunque un elemento deterrente per questo tipo di reati, è per questo che assieme alla ripressione noi vogliamo investire sempre su una città comunque viva, partecipata e quindi gli eventi, la possibilità di vivere anche il nostro centro storico sono al pari delle passeggiate notturne un qualcosa di importante. Di un copercente che decidesse di armarsi, lei che cosa pensa? Ovviamente è legittimo che chi teme intrusioni, magari violente, possa decidere di armarsi, ma se lo fa lo deve fare seguendo un percorso di formazione con tutti quei sistemi di controllo che è giusto che rimangano in questo paese per evitare di arrivare al far west e per far sì che una persona che si arma lo fa sapendo come si deve utilizzare un'arma nel caso diciamo più estremo in cui sia necessario farlo. Cerchiamo tutti di essere attenti a ciò che viviamo, con ciò che diciamo e quindi questo dovrebbe essere, perché in particolare ha un ruolo istituzionale, dovrebbe essere una delle cose su cui fare molta attenzione. Troppi politici con il Vangelo in mano, in bella vista, ma non nel cuore che quindi non lo vivono. Politici che parlano di fede per cercare consenso e poi non si comportano come vorrebbe la fede che sostengono di avere. Il monito non viene da un sacerdote qualsiasi, ma dal capo di un santuario conosciuto in tutto il mondo e frequentato da fedeli di tutti i continenti. Ciò che si dice ha bisogno anche di un contenuto, ha bisogno anche di qualcosa di sostanziale. Se lo dico da cristiano, ripeto, ho bisogno di domandarmi se ciò che comunico e ciò che vivo è coerente e testimonia il Vangelo. Sta appunto a chi vive anche la scelta della via politica, quella di trovare queste occasioni, se si è poi cristiani, in maggior ragione. Ma qui ci vuole una certa riflessione, ci vuole anche capacità di incarnare questo messaggio e non solo di sbandierarlo. Parole chiare, Antoniane, perché ricorda padre Svanera, il Vangelo è provocatorio per la vita dell'uomo, soprattutto se è votata al profitto. Al Museo Antoniano in questi giorni è esposto per la prima volta un codice del 1231 che riporta parole di Sant'Antonio al Podestà di allora Stefano Badoer. Un codice che dice dell'intervento del Santo presso il Comune, presso il Podestà del Tempo, perché fossero attenuate le pene nei confronti dei debitori insolventi. Ciao Martin, eri molto simpatico, mi piaceva molto giocare con te. Sono le scritte sui biglietti che i compagni di classe hanno attaccato ai palloncini che si sono alzati in cielo al termine dell'ultimo saluto a Martin, il bimbo di otto anni, ucciso da una scuola bus giovedì scorso, mentre stava tornando a casa in bicicletta, nel luomo di San Martino di Lupari, pieno di gente, i genitori distrutti dal dolore, con la madre che si trovava a pochi metri dal piccolo quando è accaduta la tragedia e che è rimasta ricoverata in ospedale alcuni giorni per lo shock, ma anche tante autorità, dal sindaco al comandante dei carabinieri. Don Lino, nella sua omelia, si è rivolto agli adulti, ma anche ai bambini. Gesù invita al silenzio, ha detto, per evitare di fare domande pericolose, ci dice di non avere paura, che non ci lascia mai soli. E rivolto ai bimbi, Don Lino afferma che Martin può essere una guida, buono e sensibile com'era, sarà una stella luminosa nel cielo. Domande che appesantiscono noi adulti, quando ci sono poste soprattutto dai bambini e dai ragazzi. Il sindaco ha proclamato il luto cittadino, chiusi gli uffici pubblici, chiuse le scuole, bandiere a mezz'asta, fiocchi neri esposti in tutto il paese. Nulla ci potrà mai restituire Martin, ha detto il padre nei giorni scorsi, mentre il pubblico ministero ha aperto un fascicolo sulla posizione dell'autista dello scuola bus, ma poi l'ha subito archiviato, perché sembra proprio che fosse impossibile per lui evitare l'impatto. Il bimbo è scivolato proprio mentre passava il bus, una tragica fatalità che rende ancora il più drammatico l'ha accaduto. La morte di Donatella Campagnaro, 53 anni, bidella alle scuole elementari di Fiumicello, ha lasciato per oltre sei ore la provincia di Padova col fiato sospeso. Sulla tragica fine della donna infatti aleggiava il sospetto della rapina finita nel sangue, incubo in cui è sprofondata tutta l'alta padovana fino a sera. La morte però sarebbe legata ad un incidente domestico. La donna è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue. Non vedendola arrivare al lavoro, il dirigente della scuola ha dato l'allarme, prima contattando le sorelle, poi allertando i carabinieri. Gli uomini dell'Arba si sono trovati quindi davanti alla scena cruenta, non escludendo nessuna pista, compresa la morte violenta. Solo dopo i rilevamenti della scientifica e del medico legale è emerso che la donna è mancata per un malore. Secondo una prima ricostruzione, Donatella Campagnaro ha sbattuto violentemente la testa provocandosi una grave ferita e perdendo molto sangue. Probabilmente sotto shock e non capendo la gravità della lesione, ha subito provato a pulire il pavimento dal sangue, svenendo però poco dopo. Chi la conosceva la descriveva come una persona buona. Ho fatto tutta la scuola elementare là, il permesso di lei, di loro, ho conosciuto, era una donna bravissima, guarda, non scrivete niente altro, sino che era brava, brava, brava. Mi dispiace tantissimo, proprio tanto, tanto. Il terrore ogni sera, ogni notte, ogni notte. Infatti ieri notte sapevamo tutti che era già successo qua. Penso che sarà breve, anche toccherà breve anche a noi. Abbiamo messo le telecamere, qualcosa, però non so se basta. Insomma si vive ogni notte con il terrore? Sì, decisamente, decisamente. Infatti sia io che il mio titolare, siamo sempre svegli la notte a vedere se arriva qualcuno, anche perché non si può fare niente, cioè anche se sanno le facce non li prendono. In galleria Borromeo e i ladri sono stati dovunque, mancano solo due negozi d'abbigliamento. Uno è quello dove lavora Nicolò, il viso che racconta preoccupazioni notate e insonni, come lui Riccardo. Il suo locale è stato colpito subito dopo Ferragosto. Sono tornati di nuovo, notizia di stamattina, chiamato la Questura per avere filmati di telecamere. Abbiamo inviato un filmato perché poteva potenzialmente risultare interessante, ma per il resto siamo inermi e non ci sono più parole, cioè stiamo sfiorando il ridicolo. Adesso, da che dormivamo un attimino tranquilli, ci aspettiamo anche noi, una seconda spaccata a questo punto. Al bistro sono andati due volte in altri locali, tentativi di furto. Notti insonni per questi commercianti che invece del riposo dopo ore e ore di lavoro passano le ore a sorvegliare le telecamere o a controllare il telefono. Dalle telecamere io controllavo la notte perché ovviamente cercavo di tenere monitorata più di prima la situazione. Vedo che comunque sia polizia e carabinieri passano a fare delle ronde notturne. Quello sì, evidentemente non basta. Esasperati e stanchi. Non puoi fare niente, cioè non siamo neanche venuti qua, io ero via e non sono neanche venuto qua perché è successo talmente tante volte, sono venuto talmente tante volte, anche quando ero in vacanza è successo, che stiamo solo aspettando che tocca a noi. Servono interventi, subito. Devono fare qualcosa appunto. Non mi interessa che passi l'assessore, non mi interessa che passi il sindaco, non mi interessa che passi nessuno. Devono fare qualcosa. La hub di Bagnoli è chiuso, non c'è più nessun migrante, è la fine di un incubo, è durato tre anni, qui non c'è più nessuno. La voce quasi incredula del sindaco Roberto Milan annuncia qualcosa che poco più di un anno fa, quando i richiedenti asilo a Bagnoli di sopra erano arrivati a quota mille, sembrava impossibile. Il centro profughi più grande della provincia di Padova non esiste più. Da qualche tempo in questo paese di 3.600 abitanti si erano accorti che nel lab di San Siro c'era aria di smobilitazione, ma mai avrebbero pensato ad una soluzione così rapida. Comunicazione ufficiale non ne ho ricevute. Ho chiamato in prefettura, ma il prefetto non c'era. Ecco, ma gli operatori qui dentro mi confermano che non c'è più nessun migrante e loro stessi sono già destinati in altre località. Ma questa mattina hanno fatto uscire gli ultimi sei migranti, ecco, ma erano giorni che vedevamo diverse uscite, ecco, ma non ci aspettavamo effettivamente proprio l'azzeramento totale di tutte le persone che erano qui nel lab. A meno di 20 chilometri di distanza da Bagnoli di sopra, c'è Cona, lab più grande della provincia di Venezia, tanto che qualcuno aveva finito con ribattezzare l'area il distretto del profugo. Ma ora, per questo paese della bassa Padovana, finito suo malgrado in prima linea nella gestione profughi in Veneto, l'accoglienza diffusa in cui sono stati redistribuiti gli ultimi migranti rappresenta un insperato ritorno alla normalità. Questa è ritornata la tranquillità di un paese di campagna, ovviamente sempre con i propri problemi, con soluzioni da ricercare, però finalmente senza il peso del flusso di migrazione della provincia di Padova sulle spalle. Queste le notizie più importanti della settimana appena trascorsa a Padova e provincia, siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, naturalmente non cambiate canale, restate su Rete Veneta. A presto.